...e l'energia della notte midnight, diventiamo più cattivi! Tutto questo per i protagonisti di questa notte, con scritti LESO81! Signore e signori, il comandante e il suo equipaggio vi danno il benvenuto a bordo della Midnight Extrasse. Ricordiamo di stare seduti con la cintura di sicurezza allacciata sino a decollo avvenuto. Buon viaggio! Allons enfants! Allons enfants! La diary! Allons enfants! La pat Allons enfants! De la patria Allons enfants De la patria Allons enfants Elle est enfants Allons enfants De la patria 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 Allons enfants 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 Allons 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È quasi peggio di Roby. Stasera siamo un po' piccanti come vocalist. Forse è meglio andare via prima. Siccome è ancora tempo di ferie, qua il vocalist di Gigi è andato in vacanza, però prima o poi torna e canta anche lui. Almeno speriamo che torna. Gigi senza vocalist, questo è Bla Bla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.